Prego qualcun altro? Buonasera Paolo Rotunno di Studio Aperto. Volevo sapere se secondo lei l'attuale crisi del settore medio orientale porterà un collasso del sistema capitalistico mondiale. Vuol sapere veramente tutto questo? Ma no, Studio Aperto. Volevo sapere secondo lei qual è il tormentone di quest'estate. Altri? Secondo me hai 7 P.E.G. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS